Eccoci qua cari amici, in compagnia del... con anche il fischio del treno, amabile, in compagnia del Turbo Cruciani. Esattamente, in compagnia del filosofo della zanzara Diego Fusaro, proveniente da... Mon Falcone carissimo. E' diretto? Diretto nella marca di Ancona, dove anche tu stai andando mi pare. Nella marca di San Benedetto io. Ah, quella un po' più in giù. La marca di San Benedetto, lui a trovare la fidanzata, io a un festival della follia. Che sarebbe adatto... A entrambi. A entrambi, sì. Manca solo il Turbo Parenzo, al quale rivolgiamo un Turbo Saluto, anche se è sempre più ormai addentro al mondialismo globalista. Sì, alle sue conoscenze, diciamo, altolocate. Noi siamo uomini di popolo, viaggiamo in seconda classe. Certo, sì, rigorosamente. Un caro saluto a tutti. Arrivederci.